Oggi 15 maggio è la giornata dell'analogista. Io sono Lara Finocchi, sono la responsabile della sede UPDA di Padova e sono analogista già da qualche anno. Molto spesso le persone che mi incontrano per la prima volta mi chiedono quale sia il mio lavoro e di cosa si occupa questa figura professionale. Io rispondo sempre che essere analogisti più che un lavoro è proprio uno studio di vita, perché da quando ho iniziato a studiare le discipline analogiche con Stefano bene e meglio è cambiato il mio modo di rapportarmi con gli altri, di rapportarmi con me stessa e anche la mia lettura degli eventi che accadono intorno a me. Ognuno di noi ha una parte logica e una parte emotiva. La parte logica è quella razionale, quindi chi siamo, come ci chiamiamo, qual è la nostra professione e molto spesso noi ci identifichiamo con la parte logica. La parte emotiva invece la chiude tutte quelle che sono le nostre emozioni, positive e negative che siano, e noi definiamo questa parte emotiva come inconscio, più che altro per una questione culturale. Molto spesso i problemi nelle persone sorgono perché queste due istanze, queste due parti cozzano tra loro e non sono in sintonia, quindi la persona si trova in balia della situazione e non sa se ascoltare più il cuore o la ragione. In questo caso interviene l'analogista, quindi l'analogista è proprio quella figura professionale d'aiuto che si occupa di creare un equilibrio interiore nella persona tra queste due istanze per far sì che la persona sia finalmente padrona di se stessa e possa decidere come agire nella vita, possa decidere che obiettivi per seguire e se ascoltare più la logica oppure le emozioni quando succede un evento nella vita. Questo noi lo facciamo grazie a diverse tecniche, a diversi strumenti molto pratici che abbiamo e che studiamo costantemente appunto grazie agli studi di Stefano Bene Meglio e quindi a quelle che sono le discipline analogiche. Il principale strumento che utilizziamo comunque è il dialogo con l'inconscio, il dialogo diretto appunto con la nostra parte emotiva. Noi queste tecniche le insegniamo durante tutti gli eventi che organizziamo durante il corso dell'anno, quindi workshop, seminari, convegni eccetera eccetera, durante le lezioni dei nostri corsi di formazione, ma anche soprattutto durante quelle che sono le nostre sedute, quindi i nostri incontri privati con il cliente. Perché noi facciamo sì che la persona che viene da noi, che si rivolge all'analogista per un determinato problema, un bisogno, piuttosto che magari perché ha un'emozione pervasiva che non riesce a gestire, noi appunto a questa persona insegniamo quali sono le tecniche per far sì che sia davvero padrona della propria vita finalmente e che quindi riesca a creare questo equilibrio interiore, essendo diciamo quasi un arbitro che va a decidere quale squadra andare a premiare in quel caso. Buona giornata dell'analogista a tutti e a presto!